Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. La televisione italiana è in lutto per la perdita di una figura importante. Luca Giurato, un veterano giornalista e presentatore televisivo che ha lavorato per la RAI per molti anni in vari programmi, è morto improvvisamente all'età di 84 anni a causa di un infarto fulminante. La sua moglie, Daniela Vergara, ha confermato la triste notizia all'agenzia Don Cronos. Eravamo a Santa Marinella per goderci gli ultimi giorni d'estate, dichiara tra le lacrime. Luca Giurato, il rinomato giornalista e conduttore televisivo, è deceduto all'età di 84 anni, morto per un infarto fulminante. Giurato, conosciuto per la sua lunga carriera nel mondo dell'informazione e dell'intrattenimento, ha lasciato un vuoto nel cuore di molti colleghi e spettatori. La sua presenza carismatica e la sua professionalità lo hanno reso una figura amata e rispettata in tutto il panorama televisivo italiano. I suoi programmi hanno segnato intere generazioni e la sua voce rimarrà per sempre impressa nella memoria di chi lo ha seguito nel corso degli anni. La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo dell'informazione e della televisione, con numerosi colleghi e amici che gli hanno reso omaggio sui social media e in vari programmi televisivi. Luca Giurato sarà ricordato come un grande professionista e un uomo generoso, sempre disponibile a dare una mano a chi ne aveva bisogno. La RAI ha annunciato che organizzerà una serata speciale in suo onore per celebrare la sua carriera e il suo contributo al mondo dell'informazione. Lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Luca Giurato, un'icona della televisione italiana, ci ha lasciato, ma il suo spirito...